Anche se è una parola grossa per un avvocato essere borderline, essere al limite dell'illegalità, in realtà è proprio così. Ma è una figura che nella borghesia napoletana, che non brilla per straordinaria qualità, diceva la Capria che dopo la rivoluzione del 1799, la rivoluzione partenopea, la nobiltà e la borghesia napoletana erano state decapitate, quindi si viveva di risulta diciamo. E si trovano nella borghesia napoletana queste figure di avvocati o comunque di buoni borghesi che hanno il vizio, hanno dei vizietti nascosti. In questo caso l'avvocato che interpreto io ha il vizio del gioco e lo pratica addirittura con dei guardaspalle, ma non ha il vizio del gioco nelle buone case napoletane, ma addirittura nel rotrobottega di un pub cinese. Quindi gli piace mettere le mani nella melma, gli piace molto toccare questo tipo di ambiente ed è stato gustosissimo interpretare questo avvocato che per il gioco, come del resto accade a Gorbaciov, è capace di fare qualsiasi cosa, qualsiasi nefandezza. Poi nella vita normale è un ottimo avvocato con un ottimo studio nel centro di Napoli però insomma il vizio ce l'ha e lo coltiva fino in fondo. Vorrei dire anche che è stata una gran bella esperienza, io faccio quasi esclusivamente teatro, dirigo più di un teatro, il teatro Stabbi di Calabria e altri teatri e fa prendere una boccata d'aria in un cinema così particolare, voluto da Stefano Incerti e Tony Servillo a fare questa operazione al fianco di un altro importante attore di teatro come Nello Mascia, di Mii, insomma è stato un piacere, si respirava una bellissima atmosfera. Mi è capitato di rifiutare delle fiction televisive, così si chiamano, ma ho fatto con grande piacere questo film e spero che mi capitino altre occasioni con registi come Stimo, come Incerti. Il mio personaggio è proprio un fetentone, quindi non ci sono mezze note. Io quando mi è stato proposto da Stefano di fare questo personaggio ho pensato che questo vanacore, che è un secondino, avesse in qualche modo una devianza sessuale, una, come devo dire, una cote omosessuale, no? E quindi patente o latente che esso sia, perché la vita nel carcere sicuramente favorisce la promiscuità, eccetera. E quindi proposi di farmi fare i capelli come chi ha fatto, si pittava i capelli, no? Si tingeva e poi per un po' di tempo, per negligenza, l'ha lasciato perdere. Per cui aveva questi capelli mezzo biondi e mezzo bianchi, insomma, no? Quindi dava un senso anche di viscido e di schino al personaggio. Mi è piaciuto molto a Stefano e anche a Tony. Aggiungerò che anche per me è stato un grande piacere partecipare a questo film. Io mi vanto di essere un po' il portafortuna di Tony perché io sono al terzo film che faccio con lui. I primi due, sappiamo, hanno avuto un enorme successo. Il primo è stato l'opera prima di Sorrentino, un uomo in più. Il secondo è stato la ragazza del lago che sappiamo il successo che ha avuto. Per cui sono convinto che anche Gorbaciov avrà una grande storia. D'altra parte, leggendo la sceneggiatura, si capiva subito che il film era un grande film. Sono felice di lavorare con attori di teatro, come diceva Geppi, perché è il mio mondo. Sono anche io un attore di teatro e soltanto di tanto in tanto mi presto al cinema, anche se lo specifico cinematografico mi piace moltissimo e mi affascina moltissimo. Ritrovo Geppi Gleises che non vedo da una ventina d'anni. Ci incontriamo di tanto in tanto alle prime teatrali e quindi sono molto soddisfatto di questo. l'Italia, per me è la prima volta in Italia, ma per Lila come personaggio non mi sentivo estranea, perché mi sembravo destinata al personaggio. Conosco, comprendo Lila. Comprendo quando è contenta, quando non lo è e quando è sola. Siccome non c'era dialogo tra me e Tony, soltanto con gli occhi, potevamo, o forse è meglio, col cuore scambiavamo emozioni. E poi, è una sensazione difficile da raccontare, molto misteriosa. Quando ci siamo trovati come attori a incontrarci, io ho capito che i miei bisogni lui li avrebbe capiti subito. E nonostante Tony stava giocando ad azzardo, ma comunque l'amore l'ha cambiato al suo personaggio. È così. Grazie. Grazie.